La serena rappresentazione di una scena domestica è attentamente costruita sulla meticolosa osservazione di minuti dettagli. L'intensa luminosità conferisce al dipinto un nitido realismo in cui le figure sembrerebbero racchiuse in un mondo circoscritto fuori dal tempo, se non fosse per la porta aperta del cortile che dà sulla strada. Il tema di una porta aperta, a rivelare un interno luminoso in contrasto con un primo piano scuro, è caratteristico dell'opera di Deuc, che sapeva creare un'atmosfera di calma, di ordinare vita quotidiana, in cui la tranquillità e la semplicità emanano una propria bellezza. I suoi primi quadri ritraggono spesso due o tre persone impegnate in mansioni familiari all'interno di ambienti immersi nella luce. Le opere dell'età più avanzata abbandonano questo mondo luminoso di vita quotidiana per passare alla rappresentazione piuttosto forzata e dai colori cupi di una società più ricca e aristocratica.